La Toscana punta a essere la prima regione impegnata nella lotta alla plastica e lo fa con un protocollo di intesa siglato con comuni e rappresentanti dei balneari per eliminare dall'estate i rifiuti di plastica monouso, come piatti, posate e bicchieri che imbrattano le spiagge, anche quelle libere. Un provvedimento che anticipa la data del 2021 approvata dal Consiglio dell'Unione Europea come limite invalicabile per eliminare la plastica useggetta, annunciato dal Presidente della Regione e dall'Assessore alla Presidenza nel corso di un briefing in cui è stata illustrata anche una delibera approvata dalla Giunta che da settembre esclude l'utilizzo della plastica monouso dalle mense gestite direttamente dalla Regione, da quelle che alla Regione sono legate tramite altri enti o che da essa ricevono contributi. Si va dalle mense scolastiche a quelle universitarie fino a quelle del comparto della sanità per un bacino di circa 200.000 persone e già si pensa anche a come intervenire sulla composizione delle bottiglie di plastica e sul loro riutilizzo. Nel corso dello stesso briefing è stata illustrata anche una delibera che istituisce il marchio Toscana pensato per promuovere le imprese di tutti i settori impegnate sul territorio regionale che ne facciano richiesta e che rispettino precisi standard. Si tratta, è stato spiegato, di un marchio di localizzazione che non sostituisce altri marchi e che è un ottimo volano di promozione, soprattutto all'estero, a fronte di un export che vale il 30% del PIL regionale. Grazie. 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 Grazie.